Dottore, che tempi abbiamo per l'utilizzo del defibrillatore a seguito di un'aritmia acuta? Beh, inevitabilmente quanto prima si interviene sia con le manovre rianimatorie che con l'utilizzo del defibrillatore, quindi quanto prima si innesca la cosiddetta catena della sopravvivenza, detta anche BSLD, tanto meglio è. Comunque dobbiamo sapere che entro i 4 minuti il nostro intervento può essere efficace. Ogni minuto in più determina un decremento della buona riuscita di una percentuale pari al 20%.